L'orafo gioielli, grandi marche e creazioni proprie. Compriamo oro, argento e pietre preziose. L'orafo gioielli, il tuo orafo di fiducia. Una forma d'arte che da secoli si tramanda a Cava dei Tirreni e che l'anno vera tra le 37 città italiane d'antica tradizione ceramica, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mostra sulla ceramica cavese, intitolata Ceramica al Borgo, aperta al pubblico da sabato scorso, è stata collocata nel complesso monumentale di San Giovanni Battista, sito in corso Umberto I, e ospita oltre 20 artisti, tantissimi in rosa, grazie alla partecipazione dell'Associazione Pandora. L'esposizione d'arte ceramista locale, aperta fino a venerdì 12 gennaio dalle ore 17 alle 22, ha già riscosso un notevole successo. Diciamo che è arrivato il momento di riallacciare un po' i fili di un discorso che avevamo intrapreso diversi anni fa, ricordo 2006, 2007, 2008 con l'amministrazione guidata da Luigi Gravagnolo, io ero assessore al commercio e all'artigianato, mettendo in campo una serie di iniziative significative per dare due elementi, intanto che esiste una tradizione ceramica che ha una propria autonomia nella nostra città, anche nel rapporto con le altre città della ceramica, Cava è una delle cinque città della ceramica della Regione Campania, siamo a pieno titolo nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, ed era giusto nobilitare questo riconoscimento con una serie di iniziative, tra cui una pubblicazione molto importante che facciamo, che vedete ancora qui in giro, una mostra a Dubai, addirittura portammo le ceramiche di Cava di Vietri e di tutte le città della ceramica, una serie di iniziative che poi si sono un po' perse nel corso degli anni, vogliamo riprendere questo ragionamento partendo intanto dal monitoraggio delle realtà produttive e artistiche presenti sul territorio. Sì, vabbè, sicuramente sono contenta di essere qui, anche perché la struttura è stupenda, molto, molto bella, e si presta forse anche a questa esposizione per esporre queste opere. Sì, c'è una bella affluenza, sono soddisfatta, sì, mi piace, mi piace tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti